Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video, questa è la prima parte del tour della mia libreria. Prima di iniziare, piccola premessa, io mi sono trasferita a Casa dei Miei dopo qualche anno che ero da sola. Doveva essere una situazione molto provvisoria di pochissimi mesi, in realtà qua la situazione si sta prolungando fino a data da destinarsi. Casa dei Miei è molto piccola, non abbiamo posto e tutti i miei libri erano in garage. In garage però hanno preso molto umido, si sono sciupati, quindi ho dovuto portarli su in casa. Anche la casa è molto umida, quindi quasi tutti i libri sono incelofanati, chiusi, in buste di plastica, quindi intanto li vedrete così. E poi sono messi in tre librerie in situazione di fortuna, quindi non sono messi in ordine come vorrei. Nella mia casa vecchia i libri erano in ordine per genere, per autore, per casa editrice, avevo una libreria magnifica. Qua la cosa non è possibile. Lo spazio è poco, i libri sono tanti, ho dovuto impilarli in modi strani, metterli un po' a casaccio, quindi non vedrete la classica libreria bella delle booktuber, ma sarà un po' una libreria di fortuna. Spero comunque che il video vi possa piacere. Altra cosa, vi chiedo di iscrivervi al canale, lasciare un like, un commento per supportarmi e per farmi sapere che volete vedere altri video, le altre parti del tour della mia libreria. Quindi vi lascio al video. Allora, questa è la prima libreria, che ovviamente era un mobile dei miei genitori, dove tenevano delle cosine molto carine esposte, insomma, dei ninnoli molto carini. Sono arrivata io, ho tolto tutto e buttato alla rinfusa i libri. Diciamo che qua c'è un po' di tutto, anche se i libri fantasy e quelli distopici più o meno, quasi tutti, sono in un'altra libreria, quindi qua troverete altre cose, romance, narrativa generale, saggi, altre cose. Allora, parto dall'ultimo cubotto sulla destra. Gli ultimi cubotti ci sono una serie di libri che purtroppo si sono sciupati quando appunto erano in garage giù. E quindi ho riportato sui libri, però questi si sono sciupati molto, hanno appunto muffa e quindi sono separati dagli altri libri, anche se poi in realtà gli altri libri più o meno tutti li ho incartati. È stato poi questo il motivo per cui ho dovuto incartare tutto. Comunque, vabbè, parto. Allora, parto con una vecchia edizione di Il Cucciolo. Questa era di mia mamma e niente, le l'ho fregata, adesso è mia. Poi, un libro che ho letto all'elementari è La Maschera di Ferro. Molto, molto carino. Ho poi, di James Patterson, Quando soffia il vento, ho un'altra edizione nuova. Questa però la tengo perché me l'aveva regalata a mio nonno. È un libro che a me è piaciuto moltissimo. James Patterson è un bravissimo autore e questo libro è molto carino. Ho poi un libro della Kinsella, che è A Love Shopping per il Baby, che credo di non avere mai letto. Una serie di gialli molto carina, che assolutamente vi consiglio, ambientata in Africa con una detective donna, è la serie di Alexander McCall Smith. Veramente molto carina. Sarebbero da leggere in ordine, però anche se vengono letti in modo separato non importa. La storia si capisce sempre e in ogni libro abbiamo appunto un giallo, un mistero diverso. Quindi abbiamo Scarpe Azzurre e Felicità, un gruppo di Allegri Signore. Tra l'altro queste edizioni tea sono magnifiche, purtroppo non le fanno più così. Gli ultimi libri dovrò comprarli diversi. Poi ho Morale e Belle Ragazze, Una Peana per le Zebre, Il Tè è sempre una soluzione. Non sono gli unici, ne ho altri, ma in questo cubotto abbiamo solo questi. Poi ho un libro di Harry Potter e La Camera dei Segreti senza sovracopertina. Ho questo libro qua, Eva, che non l'ho mai letto. Non so neanche se è mio in realtà, l'ho trovato e l'ho preso, ma devo ancora leggerlo. Ho poi Ad Auschwitz, c'era un'orchestra. Questo qua, un libro un po' vecchiotto che devo ancora leggere. Ho poi Siddhartha, Il Principe Siddhartha, Fuga dalla Regia, il primo di una trilogia. È un romanzo, mi è piaciuto moltissimo. Qua invece, non ve li sto a tirare fuori, ho tutti i libri, ne mancano alcuni ovviamente, non sono tutti, del Club delle Babysitter. Io vorrei averli tutti, sono dei libri bellissimi. Vi consiglio di leggerli anche se siete grandi. Poi ho Baciare o Morire, che ho letto ma non ho memoria. Ho poi Babe, Il Maialino Coraggioso. E poi ho questa edizione del Mago di Oz, che devo dire a me piace molto, era di quando ero piccola. E all'interno ci sono anche delle illustrazioni molto molto carine. Allora, proseguiamo con il cubotto sopra, dove abbiamo varie cose. Allora, Bashi da Malibu, una cenerentola a Manhattan, che devo ancora leggere. Il Giardino delle Pesche e delle Rose, questo è, mi sembra, il secondo libro di Chocolat. Sono quattro libri, il primo appunto è Chocolat, poi c'è questo e un altro, però non mi ricordo bene come sono disposti. Mi ricordo che mi sono piaciuti molto. Il quarto libro non ce l'ho, devo ancora leggerlo. Ho poi Il Manuale della Cattiva Madre. Ho poi anche dei libri della serie Mini Mammut. Ho tutti i racconti del mistero e dell'incubo e del terrore di Poe, che devo leggere. Questi li avevo presi in realtà per quando facevo le serali e poi non li ho maletti. Berga, I Malavoglia. Questo l'avevo iniziato a leggere, mi è venuto un blocco del lettore tremendo e l'ho messo da parte. Gli darò un'altra possibilità prima di venderlo. Sempre della stessa collana ho Madame Bovary, che diciamo ho letto quasi tutto, mi mancano alcune parti, dovrei leggerlo dall'inizio alla fine però. Della Newton ho Emma, anche questo da leggere. Non ti addormentare è un thriller da cui hanno tratto un film. Le tribolazioni di una cassiera, questo libro l'ho trovato in realtà, non l'ho acquistato io ma non l'ho mai letto. Poi, Il gioco proibito, La casa degli orrori, questo è il primo di una trilogia, che ho preso a un euro all'usato. Gli altri sono praticamente introvabili ma io li ho trovati tutti in ebook, quindi leggerò il primo così in cartaceo e gli altri in ebook. Ho poi questo bel librone che mi è stato regalato, Venuto al mondo, di Margaret Mazzantini, che non ho ancora letto. Non è che mi ispiri molto, devo essere sincera, prima o poi lo leggerò ma non credo sia il mio genere. Un libro che ho da tantissimo tempo, vecchissimo, in viaggio verso me, di cui non ricordo niente. Ho poi, dal liceo ad Auschwitz, un libro che era di mio padre, che ho preso, messo nella libreria ma devo ancora leggere. Shakespeare, Sogno di una notte di mezza estate, anche questo di mio padre che ho preso io e adesso è mio ma devo ancora leggere. Una bambina è basta, letto è piaciuto, ve ne ho parlato nel video dove faccio la sfida dei sette libri in sette giorni. Ho poi di Cécile Hearn, ah Hearn, non lo so, comunque se tu mi vedessi ora, i libri di questa autrice a me piacciono tantissimo. Sono dei romance ma hanno sempre delle tinte leggermente sovranaturali, comunque è l'autrice di P.S. I Love You. Ho poi un posto chiamato qui, anche questo bellissimo e grazie dei ricordi. Sempre della Harris invece Chocolat, che appunto era il primo di questa serie. Ho poi Ippolita, storia di una strega che anche questo era di mio padre, gliel'ho praticamente rubato e adesso è mio ma devo ancora leggerlo. Il Giro del Mondo in 80 giorni, in questa edizione presa in edicola, è sempre della stessa edizione, ho Zanna Bianca. Ho poi Inferno della Divina Commedia, tra i tre, Inferno, Purgatorio e Paradiso, l'unico che mi è piaciuto molto è l'Inferno e quindi ho solamente l'Inferno. Poi ho La Ragazza di Charlotte Street. Ho poi questa trilogia dove appunto l'ultimo è diverso dagli altri, non c'è fatto così, questa cosa mi fa arrabbiare. Comunque la trilogia è questa, Innamorarsi a Notting Hill, Da New York a Notting Hill per Innamorarsi Ancora e Colazione a Notting Hill. L'ultimo lo devo leggere ma mi sono scordata di che cosa parlano gli altri due quindi dovrò prima riniziare tutto. Altro libro è questo, Il Muro di Berlino, è un libro che ho comprato appunto a Berlino, c'è anche il DVD all'interno. Ho poi Il Gomito di Dorothy Parker, sono scrittori e tatuaggi, scrittori tatuati quindi insomma sono una serie di storie. Ho di Isabella Liend, Il Quaderno di Maya, uno dei miei libri preferiti di sempre, assolutamente consigliato di questa autrice, bellissimo, l'ho trovato veramente magnifico. Di Vern invece ho Cinque Settimane nel Pallone. Ho poi Un Sogno tra i Fiocchi di Neve, è un libro molto carino adatto da essere letto a Natale. L'Uomo dei Tuoi Sogni, non so se l'ho letto ma se l'ho letto non ne ho memoria. Nudo tra i Lupi, è un romanzo come si può dedurre anche dalla copertina ambientato ad Auschwitz. L'ultimo sopravvissuto è una storia vera, questa qua è un libro che a me è piaciuto moltissimo. Poi ho Auschwitz, Ero il Numero bla bla bla, anche questa è una storia vera, anche questo, questo non mi ricordo se l'ho letto, se l'ho letto comunque tanti anni fa. Ho poi Le Case da Brivido, una serie di racconti che vorrei leggere per questo Halloween. La Casa dei Segreti, anche questo vorrei leggerlo per questo Halloween, è un thriller. Ho poi La Casa degli Angeli che però devo leggere, anche questo l'ho trovato insieme all'altro, Le Tribolazioni di una Cassiera, le ho presi ma non le ho mai letti. E poi ho gli altri due della trilogia sul Principe Siddhartha, questo è Il Sorriso del Buddha e l'altro Le Quattro Verità. Passiamo qua sopra, ma traballerà tutto perché io non ho il cavalletto, per cui questo è il terzo cubotto a destra, quello più alto. Rimetto la fotocamera nel cavalletto e vi faccio vedere i libri tenendoli così in mano perché altrimenti vi faccio tutti quanti venire il mal di mare. Allora, qua sopra ho Uomini e Topi, un libro che a me è piaciuto tantissimo, assolutamente consigliato. Rosso Bianco e Sangue Blu che non ho ancora letto ma che vorrei leggere presto. Diciamo che in questo cubotto ho dei libri letti ma anche molti libri nuovi che ancora non ho letto, come ad esempio questi. Allora ho Il Canto di Calliope, nell'edizione Economica Feltrinelli che devo ancora leggere, sempre Economica Feltrinelli, Il Giardino di Amelia, sempre Economica Feltrinelli, Il Grande Gatsby che ancora devo leggere. Altro libro che ancora devo leggere è La Valle dell'Eden, lo leggerò al più presto, spero. Ho poi Papillon, è un libro vero, un'autobiografia diciamo, da qui è stato tratto anche il film Papillon, col mio attore preferito, bello, bello, bello anche il film. Abbiamo due versioni del film, una molto vecchia e una recente, io ho visto quella recente. Di Stephen King, l'istituto che devo ancora leggere. De l'edizione Adelphi, Intorno al Mondo, Consiamo a Me che è il secondo libro della dilogia. Ho poi L'Amico Immaginario di Matthew Dix, Patricia Brent Zittella, ho poi questo che era di mia nonna, è un libro dei sogni diciamo, vabbè, la cabala napoletana dà tutti i numeri, però ti dà anche le spiegazioni dei sogni e ci azzecca sempre. Libro che mi è stato regalato da Giulia, la mia amichetta, Leneide di Didone, che voglio leggere al più presto. Con invece il club dei libri, ma non vi consiglio assolutamente di iscrivervi a quel club, ho preso a un euro l'uno La figlia unica, L'albero dello zenzero, e altri due libri che in questo momento non so dove ho messo, ma quando sbucheranno ve li farò vedere. Ho poi Pippi Calzelunghe preso in edicola, Ancora una volta con te. Altro libro di Alexander McClell Smith, Precious, allora il nome di questa detective io non lo so pronunciare, quindi vabbè comunque questo, e anche L'Accademia dei Detective. Continuando con la serie della detective africana, ho Utili consigli per il buon investigatore, L'ora del tè, Miracolo nel Botswana, Salone di bellezza per piccoli ritocchi, Un matrimonio all'aperto, questi li ho letti tutti, ne ho altri e me ne mancano altri 4-5, la serie ancora non è finita, ma mi piacerebbe leggerli tutti da capo perché sono bellissimi. Poi ho Il circo maledetto, La bambina che diceva sempre sì, che però devo leggere, Candido di Voltaire, Le avventure di Arthur Gordon Finn, in queste edizioni bellissime l'acquarelli ma sono magnifiche, La donna abitata, I figli degli uomini da cui hanno tratto un film molto molto bello, un libro sulla street art berlinese che ho preso appunto a Berlino. Poi ho Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino, un libro meraviglioso, Siamo a me, Gli uccelli di Bangkok che devo ancora leggere, Psicologia dell'inconscio di Young, Due splendidi destini, La moglie dell'uomo che viaggiava nel tempo, Pulisciti il cuore, mi è stato regalato, devo ancora leggerlo, e Il sesso affrontato senza morbosità o imbarazzo, letto quando ero praticamente adolescente. Ho poi di Freud, Il sogno, iscritti su ipnosi e suggestione, Di Young, Psicologia dei fenomeni occulti, Thailandese e Thailandia, Omicidio a Whitehall Hall, Il giardino dei segreti, ho poi tre libri di cucina, questo qua, un libro sui dolci al cioccolato, e uno sui cupcake. Proseguendo, torniamo di nuovo in basso col secondo cubotto, appunto al pian terreno, diciamo, dove ho questi libri in vendita su Vinted, quindi li tolgo, Le avventure di Tom Sawyer, 1984, Hamas, storie di militanti, martiri e spie, Ma l'amor mio non muore, Sulla strada, La regina della casa, Amore sotto i tacchi, La ragazza di Bube, Di John Saul, i misteri di Blackstone, che mi era piaciuto moltissimo, Il sentiero dei nidi di ragno, Per chi suona la campana, Topi, che però devo leggere, Dalla parte delle bambine, Fiabe e novelle di Gozzano, Il club dei pettegolezzi, Storia delle streghe e della stregoneria, Fiabe popolari inglesi, Il signore delle mosche, un classico da cui hanno tratto anche un film molto carino, Nel bosco, che però devo ancora leggere, Io non ho paura, che è molto carino, bellino anche il film, Torta al caramello in paradiso, di Fanny Flagg, devo ancora leggerlo, è la stessa autrice di Pomodori Verdi Fritti, The Millionaire, che devo leggere, anche di questo hanno tratto un film meraviglioso, Mille Splendidi Soli, Sweeney Todd, anche questo devo ancora leggerlo, Betty Boo, che è un giallo, dovrebbe essere, ma devo ancora leggerlo, Buon compleanno Ellie, un libro anche questo trovato insieme agli altri, lo buttavano via, ma non l'ho mai letto, Il bambino che corre nel vento, Sfigurata, poi ho due libri di Verne, Ventimila leghe sotto i mari e Viaggio al centro della terra, questo è il mio preferito, Della Kinsella, Ti ricordi di me, ma io non ricordo di averlo letto, Me e Emma, Un alieno a Vanity Fair, che non ho mai letto, I love shopping con mia sorella, e per ultimo, Miti e dei dell'India. Ok, quindi la prima parte è finita, lasciate un like, un commento e iscrivetevi al mio canale se volete vedere anche la seconda e la terza parte, credo che dividerò il video in tre parti, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!